Secondo genita degli attori Franco Interlenghi e Antonella Lualdi, ha esordito al cinema nel 1977 all'età di 16 anni. Ha ottenuto in seguito successo negli anni 80 con i film Vacanze di Natale e Vacanze in America, entrambi diretti da Carlo Vanzina. Ha partecipato da protagonista allo spot pubblicitario della Invernizzi Mozzari nel 1982, ritiratasi dalle scene nel 1989. Tornerà la recitazione in alcune serie televisive negli anni 2000 Nando dell'Andromeda e Valeria. Medico legale, ho sposato un calciatore, un posto al sole, è madre della ex presentatrice televisiva Virginia San Giusto di Teulada. Nata dal matrimonio con Giovanni San Giusto di Teulada. Rampollo di una nobile famiglia sarda. Che le ha dato un nipote nel 1998. Nell'ottobre 2014 il marito è morto nell'azienda agricola di famiglia Capalbio. Gr, in un incidente col trattore. Mentre lavorava nei campi.